Tre spari in successione secondo alcuni testimoni, poi le urla e il rumore di auto che sgommano a folle velocità. La squadra mobile di Rimini è al lavoro per cercare di ricostruire cosa si è accaduto ieri sera, verso le 22.30, il Largo Bordoni, Zonina Casa. Alcuni residenti hanno raccontato di una sparatoria in strada, alla quale però non avrebbero assistito direttamente. Tre i colpi avvertiti in maniera nitida. Mi sono ancoricato e poi subito dopo ho sentito tre spari distinti e erano convinti che fossero dei mortaletti. Qualcuno ha notato delle auto che a tutta velocità si allontanavano verso via Padre Tosi, mentre tre persone a piedi correvano dalla parte opposta. Qualcun altro ha visto un uomo a terra preso a calcio e pugni. Sarebbero in totale almeno una decina le persone, forse di nazionalità albanese o dell'est Europa, coinvolte in quello che appare un regolamento di conti. Dovuta cosa è ancora presto per dirlo. Questa mattina gli uomini della mobile e i colleghi della scientifica hanno svolto accurati sopralluoghi in tutta l'area. Nel cortile ad uso parcheggio di un palazzo in largo Bordoni è stato rinvenuto un bossolo, mentre sono state repertate delle gocce di sangue sia sull'asfalto sia sul muro di un condominio, segno che qualcuno ieri sera è rimasto ferito. Chiunque sia di sicuro ha deciso di non presentarsi in pronto soccorso per farsi medicare, dal momento che negli ospedali della zona non risultano accessi riconducibili in qualche modo all'aggressione. Ancora al setaccio le telecamere del comune, che avrebbero ripreso solo partalmente la scena.